E tipo loro facevano mille palleggi, finchè palleggiavano muovevano, singolarità di aliens Sì, finché, quando raccogli la palla, finché non ti muovi puoi stare fermo e puoi riprendere Il massimo tipo tre passi da fermo, senza palleggiare Sì, i tre passi Sì, lui invece era fermamente convinto che tre palleggi e poi devi passare per forza Io ero tipo buono Io ero tiro alla fune Poi vi chiedi perché ho mollato lo scuolo Dramaturgia Io ero molto bravo in realtà, devo essere messo a tennis Non era il migliore di quelli con cui giocavo, però ero il secondo migliore Anche con i tornei che facevamo, ho fatto dei tornei in generale in cui ho partecipato Ho scariato secondo o terzo anche E... Mi è dispiaciuto dover smettere Che palla, c'è il perk di alien Poi mi è dispiaciuto dover smettere No, perché ho urlato? Non è il perk di alien Raga, non ho idea di perché io abbia urlato Alcuno sa perché ho urlato? Oh mio Dio, 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 Snake, non puoi capire Dakan mi ha fatto un dono Signor Dakan No, non l'ho tolto in tempo Ma l'ho tolto in tempo Tranquillo, sono qui Mi sa che l'ho mancato Ciao Dakan, cos'è che mi ha regalato? Forse Bill si è spaventato Ce l'ha il perk di alien Ma prima ho urlato ma non era accecato Non ho capito Eh, il gioco Guarda solo, a vedere mentre sono in game Sono troppo curioso Fears of Adam Ma me ne hai regalati tre Ma sei un... Cos'è sta roba? Aiuto Grazie Dakan Ragazzi ringraziate Dakan che mi ha regalato tre Fears of Adam Perché non so bene cosa si è, ma è un altro posto di giocare Sono tre episodi Grazie caro, gentilissimo È un horror, lo so che è un horror Quattro realtà è il primo fit to play Dov'è la mia torcia raga? Perché non ho una torcia ora che è noto? Oh fuck Ho fit inito le torce mi sa Troppami un'ista Via Non mi ha dato distanza È molto famoso Allora magari dopo lo gioco dai Se ci sei Conta le due e mezza giochiamo un po' Little company Quindi magari per le tre e mezza Quattro lo porto Come ha fatto a non vederti Skill issues Guarda che te caccetto intanto Tutto che tu fai il gen Aha Marco Marco XO XO Marco Bocorme per lavoro Come ha? Ciao Ovvio Ma ve se vuole bebe Bebe Ve se vuole bebe Uh Cassetto Puoi droppare una torcia Puoi droppare una torcia? Quattro che parlo con l'entità È ovvio quello poi ci sono giapponesi alti 1,70 che fanno il culo a quelli di due metri colpo di tosse Colpo di tosse Come ha detto che si chiama Fears of Padom Ma è AFK? È AFK? Sta caricando in teoria l'anti camping Che palle Non posso prendere il lancio fiamme Perché ho un cazzo di flashbang in mano Che fastidio Ma mi dici di iniziare da quello gratis Dakan Nel caso Sufa donna Ok Non ho fatto Si dura 30 minuti per il maccaccio Ma No vabbè Il tuo cassetto di fila non è legale Dai Non posso cercare due cassetti di fila Ma cosa fa sto allen? Si non è Non è che non si è Tu ci vuoi una cassetta È entrato nei tunnel Abbiamo la collezione Abbiamo la collezione Abbiamo l'intera collezione Non puoi usare la collezione Non puoi usare la collezione Per cazzo Oh Cristo santo Eh mia Grazie mille dei due abbonamenti regalati Gentilissimo caro Grazie del supporto Mi ha dato una chiave Mi ha dato una chiave Vabbè le palle di fieno che mi incastrano Aspetta che devo aggiornare qua il giveaway Ok tra un attimo Dov'è Mino 23 Non lascio far da sola Così faccio la flashbang Beh però non è che lo devi far scoppiare Ma non Era per fare Per fare di più Ammettito Mi torno più tardi Buoni game Ciao spettro Buona giornata E non ho flashbang Non ho niente Non ho flash Né niente Come faccio a fare il save Non ho la torcia Penso di averle finite Per questo Mi torno più tardi Ciao spettro What the fuck L'ho già salutato No no Mi ha droppato una cassetta Col pezzo nuovo adesso Mi serveva un instaial Lo sta campando Apriamo le porte Poi facciamo il save A blur A molto semplice Apriamo Andiamo Di fronte al hook Sto Ok Stai sicuro Dov'è che ha droppato una cassetta Balle Sta arrivando qua Se riesce a fare il save For fear No Apri la porta Faccio il save Faccio il save Non so dove però Dove c'è la casa grande Ok Intanto apro qua Balle dove stavi Quanto sei? 25% Vabbè vai a caolupio in casa Viene da me Viene Vabbè Vabbè Eh Vabbè 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 Eh Sono bloccato Al caolupo al momento Stavo aprendo Vabbè 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 Apri la del tutto In caso Eh Sono completamente Stacco In questo istante Mi sta zonando di qua Basta Me ne vado da la parte opposta Vai 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 Me ne sto dando la parte opposta Eh lo so La porta dov'è Che sta dietro la casa Sì è un po' sulla destra Ma ok l'ho visto L'ho visto L'ho visto Mamonos Mi fa tuttora la torretta a casa io Ma è vero Sta arrivando eh Non prendo più la torretta Torretta il movimento Ti dà mille punti Comunque ho portato la casa Quanto è carino Il pacco regalo celeste Hai visto Bello Sì Grazie comunque Del supporto caro Il sangue è acido Non l'ho visto Buono sapersi Che il gioco inviti a rubare Sì Ciao